Arco mattina, di mano sinistra, ora bisogna scegliere il punto giusto del volume, ci sono appoggi piccoli per i piedi, guardate come lievita, come lievita comodamente ben modelli, rockmaster in cui l'aveva detto male, lievitare gli appoggi piccoli, muociono la salute, dividerà un appoggi piccoli, ora vediamo se la stringe o se cambia idea, un applauso forte perché c'è l'attenzione, vai a misurare in questo momento, posso mettere una tasca sui capoggi piccoli, eccola qua, facciamo una cosa massia, molto bene, è riuscita perfettamente, bello e la mia amistaglia, ho bisogno che mi senti, ho, e io lasco che tu puoi sentire anche, orate, ma tu potrebbe capire, cosa čia questa sensazione, lo l'abbiamo? Sono dubbi, molto dubbi a tua certezza, in questi 4 metri, ultimi 4 metri di maia, sempre un applauso forte, che facciamo male, brava, brava, statica, bravissima, il minacciamento esterno, avete visto che vende sul piede sinistro, appulcini piccoli e si che la teniamo e andiamo su, andiamo su, Viglia Viglia, come on, ancora terza, io non so, vengono, sto, maia, 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 Viglia Viglia, come on, ancora terza, maia, 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 maia Andiamo a cacciare la hamster! Il senso di un'esplice per un'esplice, e un'esplice per un'esplice, e un'esplice per un'esplice, e un'esplice per un'esplice. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.